Cominciamo subito con un bello strappo in salita La situazione è questa, devo fare quattro salite, altre due strappi E poi sarà più che altro non sali e scendi Qui si vede bene Ho praticamente scavalcato questa collina Sono salito su questa strada E sono arrivato a Peschici Vediamo se trovo gli occhiali Più o meno, 8 euro Buon prezzo Oggi faccio proprio colasso Grazie 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 Pante La salita sembra finita Poi devo controllare a che altitudine sono arrivato dopo ogni salita c'è sempre una discesa altra salita fatta, altra discesona forse ho recuperato dalla prima giornata nella strada quella in quella maledetta donna di sabbia ci stavo per rimettere le penne ragazzi sto recuperando a malapena adesso a 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 per monte sant'angelo carichero la bicicletta sull'autobus mamma mia che spettacolo ho scoperto che l'autista è un ciclo turista è stato in grecia un mese viaggiare la vita fermarsi e morire il bello di andare in giro con la bicicletta e anche trovare certi tipi di persone è emozionante è emozionante viaggiare io viaggio comunque qualunque mezzo mi permetta di muovermi viaggio adesso sto lavorando viaggiando a 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 sono arrivato a monte sant'angelo ora devo trovare l'indirizzo del bmv ponte sant'angelo ponte sant'angelo a 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